Allora, dicevamo di questo libro di Pietro Greco che inaugura questa nuova collana dell'Asino d'Oro dedicata a grandi donne e non si poteva che cominciare con Margherita Huck che cosa la tua biografia, il tuo ritratto, che cosa ci racconta in più di particolare di questa straordinaria scienziata? C'è una parte d'Italia che funziona questa parte d'Italia viene riconosciuta anche all'estero nei giorni scorsi un rapporto per il governo inglese ha dimostrato che la qualità dei ricercatori italiani ha superato quella dei ricercatori americani e Margherita Huck sarebbe stata molto contenta di questo anche perché di questa parte dell'Italia che funziona e funziona benissimo le donne in quest'ultimo anno soprattutto sono state assolute protagoniste la ministra Carrozza, diciamo, non è un esempio scienziata che è diventata ministro ma Fabiola Gianotti che ha avuto con Obama si è contesa, diciamo, la prima, la copertina del Time per la prima volta una scienziata europea probabilmente una scienziata in assoluto ha avuto questa possibilità ed è italiana la morte, ahimè, di Rita Levi Montalcini e della Margherita Huck ma la Ilaria Capua che è diventata deputata ed è una grande scienziata di fama internazionale la Lucia Votano che ha diretto il laboratorio del Gran Sasso 800 persone vengono da tutto il mondo per fare scienza in Italia sono tutte donne che si sono dimostrate protagoniste nonostante le difficoltà, gli ostacoli nonostante le difficoltà che ancora ci sono tanti per le donne gli scienziati in Italia sono pochi ma buoni le donne sono pochissime ma buonissime quindi anche per questo abbiamo inaugurato questa collana profilo di donna con Margherita Huck benissimo, è un libro senz'altro da leggere è un libro senz'altro da leggere